Cari lettori, è finalmente arrivata sugli scaffali di tutte le fumetterie, ma non ancora su Amazon, dal quale io l'ho ordinato il 27 di settembre, quindi aspetteremo e ringrazio Federico per queste fantastiche foto che mi ha fatto. Federico è il moderatore del gruppo Telegram, grandissimo. Blame, Master Edition, il capolavoro di Tsutomu Nyei, in edizione paragonabile a quella di Akira, che abbiamo visto del Maestro Tomo di qualche mese fa, finita qualche mese fa. Un'edizione veramente gigantesca, con alcune pagine a colori, di un capolavoro della fantascienza giapponese. Noi parleremo di Tsutomu Nyei insieme a Max Dall'Oglio nella live di Matagatsu Manga di questo venerdì alle 21.30, come al solito, con Max che ci dirà tante piccole chicche su Nyei.